Martedì 14 luglio alle ore 20.45 e ancora venerdì 17 in replica alle ore 16, il Cineforum Pro Cultura propone per sguardi d'autore il film Le Invisibili di Louis-Julien Petit. Si tratta di un film francese del 2019, campione di incassi in patria con oltre 10 milioni di euro al box office, che a dispetto di questo straordinario successo ha il merito di coniugare nella forma della commedia una storia assolutamente impegnata che affronta un tema quanto mai attuale. I protagonisti del film sono quattro assistenti sociali dell'Envol, un centro diurno, che fornisce assistenza alle donne senza fissa dimora. Quando il comune decide di chiuderlo, si lanciano in una missione impossibile, dedicare gli ultimi mesi a disposizione a trovare un lavoro al vario pinto gruppo delle loro assistite, abituate ormai a vivere in strada. Per riuscire in questo proposito saranno disposte a violare ogni regola e ad attuare una forma di disobbedienza civile che però mette al centro la solidarietà al femminile. Vi aspettiamo martedì 14 e venerdì 17 al Cineforum Pro Cultura. A presto.